In una nota stampa, Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, rende noto che ha incontrato a Roma, presso la sede del Mise, il ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Come avevo annunciato la scorsa settimana, i sindacati continuo ha portato all'attenzione del Governo nazionale l'avertenza che coinvolge i laboratori della Abramo-Casmel-Care. Ancora, scrive il Governatore della Calabria, occorre agire con tempestività per costruire una prospettiva che salvaguardi i livelli occupazionali e che metta al riparo da spiacevoli sorprese intere famiglie coinvolte in questa delicata vicenda. Ho chiesto al ministro di farsi parte attiva presso gli amministratori della società affinché queste problematiche vengano trattate in modo approfondito al tavolo di crisi già istituito presso il ministero e allo stesso tempo di sondare aziende che potrebbero essere disponibili ad acquisire la commessa. Il Governo, mi ha assicurato il ministro per lo sviluppo economico, sta lavorando per trovare una soluzione, avvierà ulteriori canali di confronto nelle prossime settimane e terrà informata la presidenza della Regione Calabria in merito ai risultati delle trattative in atto. A Giorgetti ho infine rappresentato la mia preoccupazione per le possibili ricadute occupazionali sul nostro territorio derivanti dal piano industriale che Tim sta discutendo con il Governo nazionale. Anche questo importante tema sarà attenzionato in modo estremamente scrupoloso. Grazie.